per una nuova puntata del ciclo di catechesi sulla Dina Volontà dedicato al nostro caro padre Adamo, Adamo nella vita e la vita nella Dina Volontà che è giunta alla nonna puntata ricorderemo la volta scorsa abbiamo sentito il nostro progenitore parlare e ringraziare Luisa per avergli ridato l'onore perduto accogliendo il dono della Dina Volontà vi preannuncio che ci saranno altri momenti davvero molto belli dove anche andare a meditare sulla bellezza originaria ma anche sulla tragedia che ha vissuto quest'uomo è il nostro capostipite, è il nostro progenitore nella vita è sempre molto importante mettersi un po' nei panni altrui quindi pensare anche la vicenda insomma del tutto particolare di quest'uomo che è passato come si dice nel proverbio dalle stelle alle stalle in maniera insomma molto drammatica insomma ed erano stelle proprio stelle d'accordo quelle che conosceva e poi purtroppo sono diventate stalle proprio stalle quelle in cui ha precipitato quindi a me fa tanta tenerezza veramente Adamo anche perché poi ha percepito poverino l'irreparabilità l'irreversibilità di quel gesto da lui compiuto l'irreversibilità e riparabilità che ha necessitato insomma dell'opera di Gesù del Salvatore, della Madonna e con tutte quante le fatiche annesse e connesse insomma tutte quante le grandi fatiche che ha dovuto sostenere Luisa perché potessimo anzitutto reimparare a conoscere che esiste questo regno che esiste questo dono e anche insomma le sofferenze di tutta una sua vita sacrificata sia per completare diciamo così il numero di preghiere e richieste perché queste rivelazioni arrivassero ma anche perché potessero appunto essere accolte nei cuori entrare in qualche modo quindi bene questa sera facciamo uno step ulteriore preannuncio insomma che ci sarà un brano abbastanza lunghetto non troppo ma abbastanza che è un brano veramente da gustare e da contemplare perché ci farà sentire percepire, vedere l'amore infinito con cui Dio ama l'uomo con cui Dio ha creato l'uomo e questo paradigma, questo versante, questo punto cioè Dio come amore che purtroppo tante volte insomma oggetto di prediche insomma di chiacchiere a volte un po' un po' retoriche un po' trite e ritrite insomma l'amore di Dio è l'argomento che incontra sempre il favore però a volte corre il rischio di essere appunto scontato o veramente proprio retorico invece gli scritti della serva di Dio Luisa te lo fanno toccare con mano cioè questa passione di amore folle per certi aspetti senza voler essere riverenti insomma di Dio nei confronti dell'uomo è proprio il dramma di un amore infinito che si riversa sull'uomo e di questo come dire disastro ecco di una risposta totalmente non solo inadeguata ma totalmente negativa da parte dell'uomo che a detta di Dio stesso come dire gli causa un dolore grande e che è il nostro potere certamente almeno per quanto siamo in noi in qualche modo riparare insomma ovviare ecco perché cioè ascoltando certe cose è sempre bene ascoltare con una certa profondità proprio lasciarsi proprio interrogare toccare anche io stasera magari vorrei non parlare troppo e ascoltare molto insomma un po' una puntata un po' contemplativa forse questa qui perché proprio il testo che ascolteremo adesso comincerò a leggerlo tra pochissimo per non esagerare con le chiacchiere introduttore che è sempre del meraviglioso ventesimo volume tesimo volume capolavoro del 29 ottobre del 1926 qui nostro signore ci fa una storia di quella che fu la creazione e di quello che era l'uomo nei primi tempi della creazione e poi in sintesi ecco di della tragedia insomma che è successa e quindi di come oggi si trova l'uomo dentro questa dinamica che da parte dell'altissimo è rimasta uguale ma da parte nostra purtroppo no andiamo quindi io provo a leggerlo come sempre per intero e poi eventualmente ma non vorrei esagerare come ho già detto insomma riprendere qualche punto per come dire per aiutare una feconda contemplazione allora figlia mia io creai il cielo ed accentrai il mio amore verso l'uomo nel cielo e per dare il maggior diletto lo tempestai di stelle attenzione a queste espressioni io non amai il cielo ma l'uomo nel cielo e per lui lo creai sicché in ogni cosa creata nel vento nel mare nel piccolo fiore nell'uccellino che canta in tutto io accentravo il mio amore affinché tutto gli portasse amore ma per sentire e comprendere e ricevere questo mio linguaggio di amore l'uomo doveva amarmi altrimenti tutta la creazione sarebbe stata come muta per lui e senza vita ho già cambiato idea perché forse è meglio leggere questo questo plasso a sezioni e commentarle subito in diretta con di non mettere poi troppa allora questi primi quanti sono? otto righi? ma sono cioè Dio sta dicendo io non ho creato il cielo il vento il mare il fiore no cioè li ho creati ma li ho creati per amore dell'uomo e in queste creature io amavo l'uomo perché le ho create solo per lui voi sapete che è uno dei punti fondamentalissimi della vita nella divina volontà facilissima per certi aspetti però come spiega Gesù non troppo facile per altri è imparare abbiamo il ciclo di catechesi insomma classico diciamo non so come chiamarlo introduttorio ecco la vita è una divina volontà ci ho dedicato tanti tanti passaggi e un punto fondamentale è riconoscere i ti amo di Dio cioè quando io alzo gli occhi verso il cielo e guardo il cielo se ho cominciato un pochino ad entrare nella divina volontà attenzione come si entra come si comincia ad entrare nella divina volontà che cosa dice Gesù dice perché potesse ricevere questo mio linguaggio di amore cioè perché tu guardando il cielo dici ma guarda Dio quanto mi ha amato a creare questo azzurro che ho sopra la testa perché tu adesso ho finito questa catechesi esci fuori per strato sul terrazzo spegni tutte le luci alzi gli occhi verso il cielo e guardi le stelle poi se c'è qualche applicazione di android o di iphone o di quello che ti pare di quelle che fanno che le impunti verso l'alto e vedi tutte le altre nomi delle stelle le vedi ancora meglio ecco tu per dire guarda questi puntini bianchi che poi noi sappiamo essere molto lontani qualcuno qualche milione di anno luce cioè andrà a fare tutta questa roba la fate per me poi non ti amo di Dio oppure un po' di vento lo vedete nel vento lo apprezziamo un pochino di più quando fa un pochino caldo adesso quando fa caldo che si alza un pochino di brezza di vento in quei momenti veramente in quei momenti anche gli atei insomma vorrebbero ringraziare Dio ma quello è un chiamo di Dio il mare piccola confidenza sapeste quanto io amo il mare e quanto mi dispiace di poterlo poco frequentare a causa di come si sono ridotte le spiagge oggi il mare i fiori piccolo fiore l'uccellino che canta io da quando sono venuto in questo paesino c'è un periodo dell'anno proprio dove sistematicamente a una certa ora cominciano i concerti degli uccellini specialmente all'imbrunire quindi la sera quindi tu finisci la messa ti metti a pregare un po' davanti al Santissimo Sacramento e ti senti questo coro di uccellini che cantano capite cioè nella vita nella divina volontà si impara a farsi attenti perché tutte queste cose Dio le ha fatte per noi come dirà più avanti adesso non voglio anticipare la stragrande maggioranza degli uomini è un appartiene al genere umano scusate alla razza dei ladri perché ruba tutte quante queste cose se le gode d'accordo senza riconoscere l'artefice senza avergli mai detto neanche grazie non solo non gli dice grazie ma gli dice te veste corrono la mattina e la sera quindi capite qual è la spia cioè se io comincio a riconoscere questi ti amo di Dio vuol dire che comincio ad amarlo perché il rapporto che noi dobbiamo raggiungere con Dio non è un rapporto servile non è un rapporto meno che mai di paura di timore eccessivo né di eccessiva confidenza né di distanza né di indifferenza né formale che uno va messa come se sa timbrare il cartellino a cosa di questo genere Dio lo vedremo benissimo questa sera con noi vuole intessere solo un rapporto di amore tra me e lui a livello personale e tra me e lui a livello mediato da tutto quanto il creato che è un ininterrotto canto di amore di Dio verso l'uomo solo entrare in questo orizzonte solo percepire questa cosa tra l'altro ti fa campare meglio ti fa campare meglio tutti quanti noi cerchiamo l'amore e desideriamo di essere amati ma a volte l'amore sta molto più vicino di quanto andiamo di quanto ci sogniamo e di quanto pensiamo solo che non sappiamo conoscerlo e riconoscerlo ecco perché è importantissimo nella vita nella divina volontà per esempio conoscere dove si trova la volontà di Dio tutte quante le creature sono un atto distinto della divina volontà sappiamo che la divina volontà per chi non è pratico in se stessa è un atto unico ed eterno unico eh ma nelle sue manifestazioni ad extra sono miliardi di miliardi di miliardi insomma di atti e tutti quanti differenti capite perché per esempio ha parlato dei fiori uno apre un libro di botani chi è? esiste qualche botanico che è in grado di dire quante specie di fiori sono presenti su tutto il pianeta terra boh e guardate che ogni specie di fiore parliamo solo è un atto distinto della divina volontà evidentissimo questo qua io la mia anima è un atto distinto della divina volontà così come l'anima di chi mi sta ascoltando perché ogni individuo umano è un ben preciso atto distinto di divina volontà altrimenti non esisterebbe ora bene torniamo al testo ora dopo che il tutto creai formai la natura dell'uomo con le mie stesse mani creatrici capito? e come formai le ossa stendevo i nervi formavo il cuore così accentravo il mio amore notate questo termine accentravo il mio amore e dopo che lo vesti di carne formando come la più bella stato che nessun altro artefice poteva mai fare lo guardai e lo amai tanto che il mio amore sboccò non potendo contenerlo e aritandolo gli infusi la vita questa terminologia sboccare gli sbocchi d'amore oppure sfogare gli sfochi d'amore se uno legge gli scritti sono straricorrenti ultraricorrenti cioè l'idea che danno no? cioè avete visto quando uno si deve sfocare sicuramente uno che intendiamo mi devo sfocare sto nero aprendo qualcosa e spacco tutto d'accordo? perché? perché c'è una tale rabbia che c'ho dentro che mi monta in corpo che devo spaccare tutto quindi mi devo sfogare no? qui dobbiamo imparare a sfogarci in un altro modo cioè perché Dio si sfoga perché c'è talmente tanto amore che lo vuole riversare fuori di sé d'accordo? ecco e noi dovremmo sfogarci nel senso di avere talmente tanto amore da riversarlo verso lui e chiaramente anche verso i fratelli questi sono gli sfoghi e gli sbocchi graditi dal cielo allora qui è stupendo parte il fatto d'accordo che del resto come anche la rivelazione pubblica ufficiale perché la Bibbia afferma chiaramente la creazione dell'uomo da parte di Dio cioè è Dio l'artefice dell'essere umano è Dio il creatore questo proprio non ci piove quindi tutte quante le ipotesi e le teorie che non sono scienza d'accordo? non sono scienza anche se vengono presentate come tali sono teorie scientifiche che è un'altra cosa una teoria scientifica è un'ipotesi che ha a suo sostegno alcuni elementi di verosimiglianza ma non è un dato di fatto incontrovertibile chiaro questo qui quindi questa è proprio filosofia della scienza quindi questo stiamo proprio quindi anche se poi le vulgate dei media dei libri dei testi danno come vangelo ciò che è una teoria scientifica questa è la loro tendenziosità faziosità e anche non onestà intellettuale nel senso che pur di andare contro quella che è stata per millenni la credenza fondata sulla rivelazione io vado oltre nel senso che do come certo ciò che certo non è e lo sanno anche loro che certo non è ma questo è un altro paio di maniche qui si afferma chiaramente l'intervento diretto e creativo di Dio formo le ossa stendo le carni formo il cuore e mentre facevo queste cose accentravo il mio amore bellissima questa espressione no? poi lo vesto di carne e lo guardo e dico la più bella statua che nessun artefice poteva mai fare oh la perfezione dell'essere umano questa è un'altra cosa che noi dobbiamo imparare a contemplare io ho sempre detto secondo me fa molto bene dato che non ci abbiamo tempo di andare a ristudiare però vedersi qualche bel documentario ne hanno fatti tanti belli sia sul Fiat Creante che ci fanno vedere piante fiori oceani pesci ogni tanto che ne vedo qualcuno dico se uno li vede con un certo occhio o ci diventi santo a vedere delle cose del genere se li guardi con un certo occhio vedi in tempo fondo un documentario sul corpo umano bellissimo cioè che tu vedi c'è una macchina assolutamente perfetta c'è anche adesso che sto parlando cioè tutto quello che succede perché questa cosa possa avvenire cioè capite cioè quindi quando Dio ha guardato l'uomo quindi una materia plasmata vivente spirituale che gli assomigliava e che al tempo stesso era composta di materia perfetta perché le nostre cellule sono perfette cioè anche la la sanità la perfezione del corpo privo di colpa no? pensiamo alla bellezza assoluta per esempio del corpo della della Madonna del volto della Madonna del corpo di nostro Signore Gesù Cristo questi erano bellissimi questi qui capite? perché la bellezza e la perfezione assoluta vengono da Dio ne sono riflesso noi oggi non siamo così tanto belli e ci sono anche tante brutte deformità a volte in qualche povero nostro fratello che diceva che cosa è quella cosa lì? quella è una manifestazione del peccato non personale ovviamente non è che chi è brutto è peccatore nessuno pensa in queste stupidaggini d'accordo ecco ma è un fenomeno che avviene a livello come dire generale cioè ogni deformità ogni bruttura fisica o anche le malattie o anche altre cose questo è quello che dice la rivelazione ha la sua causa nel peccato dell'uomo non c'è un rapporto diretto c'è peccato personale tu se hai fatto qualche peccato personale c'hai la bruttezza tu d'accordo? no perché la razza umana è una famiglia capite? quindi non si può assolutamente fare questi tipi di di azzardatissime inferenze però è così un malbomo appena uscito dalle mani di Dio era uno spettacolo cioè se in parte abbiamo conservato l'essere spettacoli anche noi perché comunque il nostro organismo se stiamo in salute se stiamo bene è una macchina perfetta certo subisce processi di invecchiamento di decadenza piano piano nel corso del tempo e anche questa è la conseguenza della colpa d'origine però nel fiorfiore insomma degli anni aure insomma della giovinezza e anche dell'età matura fino a quando non diventa età senile si vede la bellezza del corpo umano pur e come dire ferita dalle conseguenze del peccato originale delle colpe attuali no quindi gli anni degli infusi e gli infusi della vita attenzione non fumo contenti proseguo la lettura la trinità sacrosanta dando in eccesso di amore vedete ancora e prima accentra il suo amore e poi lo sbocco d'amore e adesso dà in eccesso d'amore vuole dotarlo dando gli intelletto a memoria e volontà e secondo la sua capacità di creatura lo arricchimmo di tutte le particelle dell'essere divino tutta la divinità cioè sentiamo questa frase gustiamo questa frase era tutta intenta ad amare e a riversarsi nell'uomo bellissima questa frase fin dal primo istante della sua vita quest'uomo così creato senti tutta la forza del nostro amore la forza del nostro amore e dal fondo del suo cuore espresse con la sua voce attenzione l'amore al suo creatore la risposta di Adamo amore con amor si paga scriveva Santa Teresina come vuoi rispondere ma tu devi amarlo al tuo creatore ma devi amarlo alla grande pure non così era un amore ma sai no no e sentite come reagisce Dio alla risposta di amore di questa statua meravigliosa che ha creato proseguo la lettura oh come ci sentimmo felici nel sentire che l'opera nostra la statua fatta da noi parlava cioè impressionante se volete dire Dio che guarda dice ma guarda parla ci amava guarda parla ci ama si dicono le tre persone della tantissima Trinità guarda e con amore perfetto perché era il riflesso del nostro amore usciva da lui quest'amore non era stato contaminato da cosa dove era contaminazio dalla sua volontà e perciò il suo amore era perfetto perché possedeva la pienezza del nostro amore fino allora di tutte le cose da noi create nessuna cosa ci aveva detto che ci amava il sole non gli aveva detto a Dio ti amo ora nel sentire che l'uomo ci amava la nostra gioia il nostro contento fu tanto grande che per compimento della nostra festa lo costituimmo re di tutto l'universo è come il più bel più bel gioiello delle nostre mani creatrici ho detto che questa io non ho difficoltà a commentare che cosa che vuoi commentare che vuoi questo 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 si commenta da solo capite cioè sembra che ti dici guarda ci parla ci ama finalmente cioè una cosa che abbiamo creata ci dice che ti amo e allora capite a partire da questo da questo discorso no il tema importantissimo nella vita divina volontà dei giro nel fiat creante per esempio ricordiamo sempre perché sapete le conoscenze si alimentano ogni tanto rinfrescando la memoria voi sapete che un giro che è fondamentale perché un giro significa andare a conoscere apprendere accogliere e a ricambiare un atto della divina volontà perché ogni essere creato è un atto della divina volontà la trovi lì allora tu trovi una creatura cosa fai se tu ricevi il ti amo di Dio riconosci il ti amo di Dio glielo dici guarda che ricevo il tuo ti amo Gesù dal sole e lo ricambio con il mio ti amo per me per tutti da parte mia e nella creatura metto il mio ti amo nel sole perché il sole non te lo può dire ti amo te lo dico io mettendo in quel lato della tua volontà il mio ti amo capite prestando al sole il ti amo il ti amo capite dire un ti amo vuol dire esercitare le cose spirituali la nostra intelligenza la nostra memoria e la nostra volontà capite perché tu non cioè perché dire questo ti amo vuol dire uno che io riconosco con la mia intelligenza che quella cosa l'ha creata nostro signore ci credo d'accordo credo che era fatta per me e quindi riconosco il suo ti amo quindi questa è un'attività intellettuale che certamente deriva da alcune conoscenze e da alcune credenze che io ho devo credere nel fatto che Dio è creatore d'accordo devo credere nel fatto che tutte le cose sono state create come mi sta dicendo per me quindi come gesto di amore di Dio verso l'uomo d'accordo e quindi lo riconosco come tale e lo ricambio personalmente metto il mio ti amo sulla creatura e poi cosa faccio lo vedremo tra poco supplisco a tutti gli uomini che questo non lo hanno fatto e forse non lo faranno mai dobbiamo chiederci quanti esseri umani trascorrono la vita tutta la vita senza aver mai detto una volta grazie a Dio io credo che non siano pochi perché quando qualcuno si rivolge a Dio ammesso che tra i pochi se ne possa ancora trovare generalmente si rivolge a Dio per chiedere qualcosa perché c'ha bisogno di qualcosa ma il rivolgersi a Dio per dirgli un grazie o dirgli un ti amo d'accordo riconosco il tuo amore e lo ricambio con gioia grazie le famose tre cose che diceva il Papa no? il Papa diceva grazie e scusa e per favore queste vanno dette pure a Dio il Cardinal Petrocchi giavescovo di Latina quando era ancora semplicemente eccellenza diceva grazie e scusa e ti voglio bene tre cose che dobbiamo imparare di anzitutto a Dio ma anche al prossimo più che ti voglio bene a Dio si dice proprio ti amo d'accordo che è di più allora proseguo come era bello l'uomo nei primi tempi della sua creazione era il nostro riflesso e questi riflessi gli davano tanta bellezza che rapiva il nostro amore e lo rendevano perfetto in tutti gli atti suoi perfetta era la sua gloria che dava al suo creatore perfetta la sua adorazione il suo amore le sue opere la sua voce era tanto armoniosa che risuonava in tutta la creazione perché possedeva l'armonia divina e di quel fiat che gli aveva dato la vita qui ancora dobbiamo fare un volo non un volo dello spirito un volo dell'immaginazione e nella contemplazione prendere atto di queste cose l'uomo era bellissimo il riflesso di Dio e questi riflessi gli davano una bellezza tale che rapiva il nostro amore rapiva cioè se uno legge la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà vedrà che la Madonna tra le tante cose che ha fatto lei è stata capace di far perdere la testa mi si perdoni l'espressione ma al Signore sicuramente me la passa al nostro Signore nel senso che la sua potenza come dire d'amore quindi la sua accoglienza dell'amore di Dio il suo ricambio dell'amore di Dio lo rapivano cioè Dio era quasi costretto a ridonarsi a reinventarsi in modo di nuovo a dargli nuove gioie a dargli nuovi contenti perché non resisteva al ricambio d'amore che gli dava la Madonna ecco questa perfezione questa capacità di rapire il cuore di Dio lo avevano i nostri progenitori ce lo dice qui Gesù questi riflessi gli davano tanta bellezza che rapiva il nostro amore e lo rendevano perfetto in tutti gli atti suoi quindi perfetta gloria che dava al creatore perfetta adorazione perfetto amore perfette leove attenzione un'altra cosa fondamentale tutto era ordine in lui perché il nostro volere gli portava l'ordine del suo creatore lo rendeva felice e lo faceva crescere a nostra somiglianza secondo il nostro detto facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza attenzione al termine ordine le cose che escono da Dio e se vogliamo vivere in Dio nella nostra vita ci deve essere ordine in tutti i sensi e dappertutto in tutti i sensi ripeto e dappertutto in ogni cosa che noi facciamo ripeto tante volte si facciamo per le stesse cose dall'ordine esteriore dall'ordine dell'Europa persona dall'ordine dell'Europa camera dall'ordine interiore quindi l'ordine interiore le priorità adesso non voglio rimandare al ciclo di catechesi che sono io per voler amare la scala dei valori cioè io devo avere una lista di priorità la mia vita deve essere ordinata ma non è possibile che una cosa che dovrebbe stare al settimo posto va a finire al primo posto per esempio facciamo tanto un esempio dato che questi giorni stanno parlando di negozi aperti e il Papa mercoledì scorso ha fatto tutta la realtà della bella catechesi sulla domenica cioè se io sono un hobby tipo giocare a tennis che ne so e per questo hobby io mi passo la domenica intera al tennis club d'accordo? perché prima mi faccio la partita poi mi faccio la voce poi faccio la salva poi mi faccio la chiacchierata con gli amici e non vado a messa e trovo mia moglie che sta imbestialita perché sto manco manco un pochino con lei coi figli succede che un hobby che non è mica una cosa non c'è niente di male a fare una partita a tennis insomma nel tempo libero però se questo diventa invasivo d'accordo o va a addirittura togliere il posto a ciò che era doveva bene al primo posto che era la santificazione della festa e poi al secondo posto che era stare con la famiglia questo non fa bene non c'è ordine capite e senza ordine non c'è vita nella divina volontà perché la divina volontà è ordine perfettissimo e guardate questo nelle minime nelle minime nelle minime cose anche l'ordine la proporzione ecco in altri punti degli scritti l'equilibrio tutte proprietà divine e dell'agile divino allora ogni suo atto fatto nell'unità della luce del fiat suprema era una tinta di bellezza divina che acquistava ogni suo detto era una nota armoniosa di più che suonava capite no faceva tutti atti divini essendo fuso nel fiat prima prima della colpa d'origine e quindi ogni atto appunto fatto nella luce del fiat supremo era una tinta divina di bellezza nuova che acquistava perché ogni atto di un essere umano lo lo cambia questo sono i principi generali noi c'è scritto anche degli articoli c'è anche un ebook che si chiama i principi generali della vita morale cristiana una cosa del genere ogni atto che noi facciamo se è buono ci rende migliori se è cattivo ci rende peggiori se io faccio un atto buono fuso con la divina volontà quell'atto buono fuso con la divina volontà mi rende non solo più buono ma mi rende più divino e produce una bellezza divina prosegue tutto era amore in lui in tutto ci decantava la nostra gloria la nostra potenza e sapienza infinita e tutto attenzione quindi e tutto cielo sole terra gli portava gioia felicità e amore di colui quello che ha creato quindi era una vita di amore nell'amore per amore Adamo era ubriaco di amore ricevuto e donato questa è la vita ma questa potete stare certi al 100% senza nessun dubbio questa è stata la vita terrena della Madonna la vita terrena e che ovviamente anche la vita c'è l'este che sta chiedendo adesso proprio senza nessunissimo dubbio oltre mare Adriatico d'accordo con tutte le dovute cautele per apparizioni non riconosciute quando gli fu chiesto come mai che sei così bella la glossa quello che abbiamo appena letto sono bella perché amo amate e diventerete tutti belli come a me ora qui dobbiamo farci dato che questa comunque è una catechesi sapete che la catechesi ha sempre la funzione come dire di pungolo d'accordo perché la catechesi è una decodificazione come dire una trasmissione di qualche aspetto della liberazione a scopo però di suscitare la conversione la conversione vuol dire che ti tocca che ti scuote che ti porta ad un mutamento di vita si spera è meglio no allora qui dobbiamo farci una domanda semplicissima com'è il mio rapporto d'amore con Gesù e con la Madonna esiste c'è anzitutto d'accordo c'è oppure per me fondamentalmente Dio è ancora una cosa che che esiste se ne sta lassù ma se esiste tra l'altro sì certamente a me sacevato perché parato da mamma da nonna anzi poi c'è pure fare pratiche belle quindi te ne stiamo tranquillo perché beh perché no per dire no ma questo cioè la grammatica essenziale del nostro rapporto con Dio è l'amore capite l'amore cioè io ringrazio Dio per certi aspetti no cioè che ho conosciuto in maniera bella poi tra l'altro quindi non in maniera macchiata l'amore umano cioè quando tu ti innamori non è che qualcuno cioè capito pigli e comincia a fare un sacco di atti d'amore glielo dici glielo cose fai una carezza fai questo fai quell'altro e fai qualche pazzia cioè capito cioè se tu l'amore lo vivi l'amore lo esprimi lo mostri capito non è che se tu sei innamorato di Dio di Gesù di Maria di chi te pare ma tu queste cose qui le vivi tu gliele dimostri gliele dimostri cioè è vita capito se non glielo mostri non glielo dimostri ma di che innamorato ancora non ci sei e se noi non siamo innamorati stiamo vivendo una vita di fede piccola sicuro piccola piccola ecco perché molti cristiani sono sono tiepidi sono facili a perdere la fede se succede una cosa se la prendono col padre eterno e robe del genere no perché la vita è piccola piccola fede piccola allora qui Gesù prosegue andiamo veloci stiamo già andando verso la fine se tu potessi formare una strada secondo ciò che più ti piace e poi riversassi tutta te stessa in essa dandole tutti gli umori vitali e con l'impero del tuo amore le dessi la vita ma quanto non l'ameresti e quanto non vorresti che ti amasse quale sarebbe la tua gelosia d'amore che fosse tutta a tua disposizione e neppure un palpito tollereresti che non fosse fatto per te proviamo a pensare se fossimo noi capaci di fare una statua secondo i nostri gusti secondo quello che ci piace perfettissima e poi ci riversiamo tutto noi stessi in essa dandole gli umori vitali prendendoli da noi e poi con l'impero del tuo amore bellissimo gli diamo la vita è chiaro che l'ameresti come cosa è fatta tu e non vorresti essere riamato e non saresti geloso certo certo che lo saresti qualunque sono onesta queste sono classiche domande retoriche insomma anche Gesù usa questi come dire espedienti del linguaggio no dice neppure un palpito tollereresti che non fosse fatto per te ah tu nella tua statua guarderesti te stessa e quindi ogni piccola cosa non fatta per te attenzione al passaggio sentiresti uno strappo fatto a te stessa uno strappo cioè se sta statua fa qualche cosa non per te ti senti uno strappo ma anche qui dobbiamo chi è sposato chi ha avuto la fidanzata fate qualcosa insomma cioè quando tu sei tanto innamorato di una di una persona a volte è soltanto che una persona ha una mancanza di attenzione d'accordo oppure che mostra molto interesse per qualcosa che non sei tu non è che uno è geloso come un siciliano eccetera per carità attenzione non offendiamo i siciliani questo è un modo insomma di dire non è che uno può fare il gelosone appiccicato no ma io sfido chiunque chiesto qualche commentino su facebook se io sono tanto innamorato di una persona e vedo che questa manifesta un'attenzione un'attrazione a qualcosa di diverso da me magari non glielo dico proprio perché glielo aglio bene ma dentro ce le sto male ce le sto male io ce le stavo male d'accordo quindi uno strappo addirittura fatto a a te stesso no ecco sentite che dice Gesù tale sono io io sono proprio così tutto ciò che la creatura non fa per me sono tanti strappi che sento la frase ce la dovremmo mettere tutto ciò che la creatura non fa per me sono tanti strappi che sento questo è vero dal punto di vista oggettivo chi dice ah ma io non ho fatto niente di male non hai fatto niente di male Gesù ti sta dicendo guarda che se tu hai fatto una cosa non per me non con questa intenzione già mi hai fatto uno strappo uno strappo cioè qui non è strappo qui sono strappi dolorosi cioè uno strappo è sempre un evento brutto no se io prendo una cosa che c'ho addosso lo stringo forte forte gli do una botta riesco a stracciarlo uno strappo e poi Gesù spiega perché sto strappo perché molto più che la terra che la sostiene alla creatura è mia cioè noi quando facciamo tip tap che camminiamo la terra su cui mettiamo i piedi non è la nostra è di chi l'ha fatta e chi l'ha fatta è Dio il sole che le lumi la riscalda è mio la luce non è nostra è di Dio l'acqua che beviamo mi sta venendo la sede perché quando uno parla a lungo non si è finita cioè non andrà a fare una bella bevuta ma quell'acqua è di Dio il cibo che ha già mangiato è di Dio qualunque cibo che sei mangiato qualunque anche se hai trasformato hai mangiato la pasta la pasta viene dal grano si è mangiato la carne la carne viene da un animale che si è mangiato la verdura la frutta da dove viene e quanta gente che si mette saluta a tavola per una vita senza dire grazie a Dio io ho sentito insomma ho saputo questa è una storia vera e reale da parte di un sacerdote vissuta da parte di un sacerdote che si è trovato in un ambiente parrocchiale dove praticamente percepito lo avevano invitato a cena si alza come ogni buon sacerdote insomma come ogni buon cristiano questa non è una cosa da preti fa il segno della croce e dice signore ti ringrazio per questo cibo che ci stai donando danno anche più del necessario per Cristo nostro Signore insomma pure che riceviamo della tua bontà per Cristo nostro e questi commensali te se lo guardano con due occhi così finita la cena uno c'ha il coraggio insomma ad andare lì a dirgli scusi padre ma che bisogna fare così prima che si mangia certo questa cosa che si insegna nel catechismo della prima conio ah noi qui non l'abbiamo mai fatto non ce l'ha mai detto nessuno capite? proseguo la lettura tutto è mio vive a spese mie l'uomo e mentre tutto le do essa la bella statua mia non è per me ecco il dramma questo è il dramma questo è proprio un dramma questo qua la tragedia quale deve essere dunque il mio dolore l'affronto e l'offesa che mi fa questa statua pensalo tu stessa figlia mia questo sentiamocelo le volte a noi cioè noi siamo immersi abbiamo avuto da Dio solo che beni sotto tutti i punti di vista perché da Dio vengono soltanto i beni e la creatura che cosa fa non è per lei ma questo è quando il nostro Signore è fortunato per coordinare mente cioè la musica che sente dai membri insatanassati della razza umana sono bestemmie urli mormorazioni prese con lui ah Dio non esiste ah se fosse buono non sarebbe successo il tumore ah se fosse buono non sarebbe successo questo acqua e poi bestemmie da scaricatori di porto da una mattina a una sera in tutte le salse in tutti i modi a destra a sinistra in continuazione uno che a te e a chi fa queste cose gli ha fatto solo che del bene e che tutte le cose che questo può eseguire il primo ateo del pianeta Terra vive quotidianamente anche che si beva un bicchiere d'acqua quel bicchiere d'acqua gli era dato il Padre Eterno allora pensalo tu stessa figlia mia ora tu devi sapere beh c'è sta sta tragedia come facciamo ultima parte del discorsetto di Gesù come facciamo ora tu devi sapere che solo la mia volontà può ridarmi la mia statua bella come io la feci attenzione perché essa è la conservatrice di tutte le opere nostre e la portatrice di tutti i nostri riflessi in modo che l'anima vive dei nostri riflessi i quali si ama le somministrano la perfezione dell'amore si opera la perfezione delle opere insomma tutto ciò che fa tutto è perfetto in lei e questa perfezione le dà tante tinte di varie bellezze da innamorare l'artefice che la formò quindi fa ripartire questo circondo questo è possibile soltanto attraverso il dono della divina volontà perché Gesù spiega essa è la conservatrice di tutte le opere nostre e la portatrice di tutti i nostri riflessi ecco perché amo tanto che il Fiat Supremo sia conosciuto e vi forme il suo regno in mezzo alle umane generazioni per stabilire l'ordine tra creatore e creatura per ritornare a mettere in comune i nostri beni con esse attenzione faccio notare stabilire l'ordine tra creatore e creatura ci vuole l'accoglienza della divina volontà per stabilire quest'ordine l'ordine tra creatore e la creatura no? che la creatura torni a comportarsi con il creatore come creatura con tutto quanto il ricambio di amore di adorazione di ringraziamento siamo un'anima che vive nella divina volontà per esempio come sta in chiesa se vive nella divina volontà come si concia quando va in chiesa come si concia come sta qual è l'atteggiamento del suo cuore del suo corpo chiacchiera o non chiacchiera parla con Dio in chiesa si parla con Dio di Dio se si fanno cose diverse da queste non c'è ordine non c'è l'ordine tra il creatore e la creatura queste sono cose molto concrete è chiaro che Gesù usa dei termini generali e astratti per farsi comprendere da tutti uno li spiega anche attraverso alcuni esempi l'ordine tra creatore e creatura è anche che la creatura è creatura la creatura è creatura quindi se Dio ti dice se fa una cosa quella cosa si fa anche se non la capisci discorso che fece Pietro a Gesù nell'ultima cena ah io non mi avrei mai piedi Pietro quello che io faccio tu non lo capisci poi lo capirà adesso mi devi lasciar fare perché tutto il bene che te voglio tu sei un povero pescatore io sono figo di Dio d'accordo non so quello che sto a fare ecco l'ordine tra il creatore e la creatura vedete cioè l'esempio che ho fatto San Pietro in quel momento pure sta facendo un gesto che apparentemente sembra meritorio ma sta violando l'ordine tra il creatore e la creatura perché Gesù Cristo lo sa quello che sta facendo capito per cui è chiaro che il gesto di per sé lascia sconvolti insomma ma se lo sta facendo lui comanda lui è lui Dio quindi se lo vuole fare lui io alzo le mani si alzano le mani e solo la nostra volontà ultima frase tiene questo potere senza essa non ci può essere nulla di bene né la nostra statua può ritornarci bella come uscita le nostre mani che riesci attenzione l'ordine tra il creatore e la creatura per ritornare a mettere in comune i nostri beni con essa Dio i suoi beni con noi non ci li metta adesso in comune perché se mettessi i suoi beni in comune con te tu saresti la persona più felice del pianeta Terra e gli mando una meditazione che ho fatto qualche tempo fa credo due sabbati fa che ci sono rimasto secco pure io cioè su quello che diceva la Madonna e Gesù sul loro stato nella vita terrena di felicità ininterrotta non interrotta nemmeno dalle innumerevoli croci che Gesù tra Gesù e la Madonna che hanno passato tutta quanta la vita terrena cioè questa inestricabilità d'accordo perché adesso purtroppo il peccato originale c'è stato quindi se ne hanno fatto le conseguenze e che conseguenze anche gli unici due innocenti che sono Gesù e Maria figuriamoci noi però dentro questo mare di dolore domani è il santo nome di Maria sapete io dirò nella predica una delle etimologie perché il nome di Maria ha molti significati uno è mare di amarezza mar yam in aramaico yam in ebraico significa mare mar da cui derivano le acque bibliche di mar significa amaro simile all'italiano mar amaro quindi mare amaro o mare di amarezza perché chi ha sofferto più della Madonna tra le pure creature che sono passate sul pianeta terra vuole alzare la mano qualcuno però chi è stata più felice anche sulla terra di tutte le creature che sono state sul pianeta terra la Madonna senza nessunissimo dubbio e con lei Gesù Cristo nella sua santissima natura umana senza nessun dubbio quindi e questo da dove viene questa felicità io ricordo che Dio ti mette a disposizione i suoi beni i suoi attributi le sue prorogative o tu pensa se Dio ti mette a disposizione la sua onnipotenza cioè come la percepisci tu la percepisci con una forza per esempio la virtù della fortezza per esempio la costanza la perseveranza il coraggio la magnificenza quindi il mettersi a fare le cose in grande impegnarsi risolutamente in qualche cosa eh sono cose serie ma se Dio ti partecipa alla sua onnipotenza diventa un gioco da ragazzi diventa un gioco da ragazzi i diavoli abbiamo visto un sacco già un sacco di diavoli stanno lontani da chi vive nella divina volontà se vogliono fargli qualche danno devono andare in giro a cercarlo da qualche parte lontano ma non possono nuocerli direttamente non possono non possono non possono però perché perché Dio ti comunica i suoi beni se diventa belli pure quando sei brutti non c'è bisogno di andare a fare chirurgie estetiche gli estetisti i lifting le rifatture varie non serve non occorre capite ecco quindi questo è un brano da contemplare qui siamo quasi a vedere alla fine cioè Dio crea riversa amore suo amore suo amore su un essere perfetto 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 d'accordo perfetto qui non ho parlato tanto fino a quando stavo in grazia era un fenomeno era uno scambio d'amore tra creatore e creatura stavamo uno più felice dell'altro stavamo con Dupasco dopo la pazzia che l'uomo ha perso la divina volontà fa il bello e il cattivo tempo se frega tutti quanti i beni miei se li ruba se ne appropria senza manco dimmi grazie e ha rotto questo dialogo d'amore e io non posso fare vita in comune con lui e io non posso per questo partecipare come tornerà come tornerà questa letizia primordiale tanto quanto apriamo le porte del nostro cuore alla divina volontà perché solo la nostra volontà tiene questo potere cioè di rimettere in comune i beni tra creatore e creatura fuori di essa non c'è nulla di bene e senza di essa la nostra statua non ritornerà bella come quando uscita alle sue mani bene ci diamo appuntamento la settimana prossima do la mia benedizione a tutti Ave Maria